Allora ragazzi, il concorso era spedite una foto mentre vi allenate durante la quarantena, tantissimi anni fatti aveva sentito Luca detto più di mille persone, il risultato è stato distribuire un sacco di premi, avere un sacco di bellissime foto. Il quarto classificato va da Alessandro Brunetti, 20 anni, ha lavorato McFit a Torino dal 2020, è professione studente, quindi appena arrivato ha già vinto un premio, pensa te, e oggi ha un esame quindi non può essere presente. Il premio erano due rasoie, e terratto by Gillette Lab, Gillette Venus, quindi è un kit di rasoio per lui e per lei. Ragazzi, dopo la quarantena sto facendo sempre rasoio, cioè nel senso non dire queste cose. Partiamo al terzo classificato, è una ragazza che mi ha dato una foto molto divertente, Valeria Denti, 21 anni, abbonata a McFit di Pavia dal 2019, studentessa. Valeria, tu pensavi che venivi qui, ritiravi il premio, poi finito, vero? No, no, mi immaginavo che avrei dovuto fare delle prove per poter avere il mio premio. Visto che hai vinto con una foto con l'elastico, noi ti facciamo allenare un po'. Una console della Nintendo Witch con Ring Fit Adventure, che è fighissima perché tu riesci ad allenarti con questo aggeggio qua, che ho visto già un sacco di volte. Ma studi tantissimo, cioè bellissimo, perché ti devi anche correre. Grazie. Brava. Vieni qua con noi, Roberta Di Giuseppe. Roberta, sì, è appena arrivata da Roma, direttamente da Roma. Come stai? Bene, un po' di corsa, però bene. Siccome noi dobbiamo essere garanti che le foto che ci hanno inviato siano veritiere, e tu hai fatto una foto in cui facevi una candela, no? Quindi adesso per avere il premio, vuoi dire cosa è il premio? Così la rivolgiamo un po'? Certo, certo, sono due biciclette, ragazzi, una da uomo e una da ragazza. Wow, c'è della tecnica qua, ragazzi, eh? Amore, non buttarla giù perché vuoi la bicicletta. Ma che è un punto giù? Cioè, brava! La nostra Roberta, grandissima! Il primo classificato, 34 anni, abbonato a McFit di Torino, anche in questo caso, quindi abbiamo due da Torino dal 2014, quindi un fedelissimo. E anche durante tutto il lockdown è stato super fedele, quindi bravissimo, facciamogli un applauso. Professione, agente di polizia, quindi è anche un onore premiarlo. Claudio Rezza, eccolo qua! Allora, tu hai fatto una foto bellissima, che foto era col cagnolone mentre facevi scuote, quindi non può che essere... che piacervi questa foto, no? Gli animali, chi si allena così, ama anche gli animali, è vero o no? Claudio, dov'è il cagnolino? Eh, a casa, è a Torino. Abbiamo qua l'amico degli animali, quindi, cioè, usiamo te come cagnolino. Come peso? È certo! Tanto Claudio, cioè, si è allenata quando ha aperto la palestra. Eh, dai, è forte! Proviamo, dai! Proviamo! Vieni! Oh, povero! Oh, povero! Vediamo se si merita il primo premio! Squat! Squat! Yeah! Si vibra qua, ma come è? Grande! Questo è il tuo premio? Senti, meritatissimo! Ma home gym! Allora, una giudica, una home gym, completa gymbo, ragazzi, guardate, ti fai la palestra a casa. Però, Claudio... Commesso che vieni, lo stesso è andato a MakeFit, eh? Volevo dire anch'io questa cosa. È un'altra storia. È bello far parte della community MakeFit, grazie mille! Grazie, ragazzi! Grazie, complimenti! Ciao!